Un altro importante appuntamento. Sì, tre belle inaugurazioni, il reparto di pediatria riqualificato, la struttura di cardiologia ampliata con la parte riabilitativa in piena funzione, i posti letto restituiti e i nuovi mammografi, tecnologia e servizio del sistema, in modo particolare delle donne. Una bella giornata dove l'impegno fatto di investimenti, di personale in più, di budget dato alle strutture, si traduce in servizi, in qualità, in spazi che riqualificati, offerti come posti letto diventano preziosi per le nostre comunità. Un'eccellenza all'ospedale San Benedetto con il nuovo mammografo. Sì, è un mammografo molto importante perché riesce a vedere in maniera tridimensionale la mammella e quindi una tomografia importante, non è più come prima, ma c'è una possibilità diagnostica molto più accurata e quindi un passo avanti verso la tutela della salute delle donne.